animatronic la tecnologia portata di tutti la robotica sempre più user friendly hanno portato negli ultimi anni lo sviluppo di questa nicchia di mercato ovvero gli animatronic si tratta di pupazzi che hanno dei movimenti robotizzati e comandabili da remoto o programmabili lascio alla tua immaginazione la vastità delle applicazioni che possono avere tuttavia a mio personalissimo avviso è importante inserire questo tipo di tecnologia con attenzione al fine di non distruggere la potenza di un'arte performativa che fa molta leva sulla semplicità e che nel corso dei decenni è rimasta pressoché invariata a tal proposito voglio raccontarvi la performance in finale nel 2015 ad America's Got Talent del vincitore il ventriloquo Paul Zardine il quale nella dinamica di conversazione col pupazzo arriva a litigarci e ad intimargli se me ne vado tu non funzioni il pupazzo lo sfida il ventriloquo esce di scena lasciando il personaggio Sam inanimato sul suo stand dopo pochi secondi nel vuoto scenico totale il pupazzo solleva la testa si guarda intorno e comunica col pubblico dicendoli di non dire quanto successo al ventriloquo che tornando pochi istanti dopo lo trova di nuovo inanimato come nulla fosse successo scrittura geniale interpretazione da vittoria ad America's Got Talent strepitoso questa è l'eccezione che conferma la regola è possibile inserire una animatronic in una performance classica ma va fatto con grande maestria e puntando fortemente sulla scrittura scenica